Uno degli obiettivi è sicuramente quello di far vivere la marca, quindi farla proprio provare sulla pelle. Il posto è meraviglioso, pur mai io già la conoscevo, perché io sono di Torino, quindi venivo spesso qui e devo dire che anche con la neve e con la bufera è tutto incantevole. Quest'anno è stato l'anno importantissimo per noi della sponsorizzazione con Juventus, che è un'operazione che partita a luglio di quest'anno ci sta dando grandissima soddisfazione perché abbiamo risultati straordinari.